e ben ragazzi sono Ghost Predator, sono con me che è Xanthub2 buongiorno buongiorno e faremo un video stupido che è in uno contro uno a Quickscope il PS3 verrà fuori verrà fuori una cosa scandalosa ve lo dico perché Xanthub2 gioca su Xbox 360 si quindi lui, adesso, voi vedete che comincia la partita andiamo tutti e due nel menù perchè questo pezzo di fango questo pezzo di fango deve cambiarsi le leveti invertite perchè sennò non è capace di giocare con quei dati della Play 3 tanto sei grano Sam, non è neanche la mimetica eccolo, è partito già ok, prima c'è per Ghost Predator due quando gioco così Ghost Predator mi fa bestire lol e vabbè, sì, Sam, sei grano non devi mica dare la colpa a me full bang me lo sento, è triple beat la tua mano ci sono solo io, cioè, siamo in due ed è triple eh, sì eh, va, la prima che inizia la rimonta, ragazzi prima ed ultima, ricordiamo spero che sempre si dimenticate di dire che sarà la tua ultima colpire il ginocchio ok, ragazzi, ma cosa hai fatto così? sì, sì, perchè anche un tomo che ti colpisce mamma mia che schifo il tomo che ti colpisce sulla luce è un punto mortale, no, è l'ho più arma adesso facciamo DSR vi faccio vedere il come si fa la kill in wanted no, in wanted no, in wanted no, in wanted dai, vuoi fare wanted seriamente, cos prezzo, dai no il prossimo app eh, lui usa DSR, no? perchè power, DSR e power adesso senza fare i nomi ma solo lui e Magico Spraider riesco a fare con cerchietta della minchia lol glassbanger glassbanger mi stai recuperando e non mi piace faccio oh, non mi guardare allo schermo pezzo di pango copshop page ma sì, vabbè, ma io ho il malichino davanti che mi impedisce di vedere io non lo so anche i manichini complotti contro di me oh, ostiti a grosse a grosse di robo a grosse vaso per i fiori che sono un po' passiti ma sarei fatta con sensibilità 10? no, ma no no fail ma perchè ci selezionate quelli serbi kill? tanto non ci arriverò mai neanche con tutte le kill che no 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 non mi faccio mai sticchi neanche se faccio 30-0 ci arrivano le direi di incisioni i tempi siamo forti, eh, un quarto d'ora uno davanti all'altro a spararselo, vabbè non ti fermi no, hai saltato il mio tono l'ho... ma no dove l'ho colpito che non... non l'ho preso vabbè vabbè godo e così dai fa cacare perchè... però c'è il gioco perchè sono un pro vieni qui mi spesso i coglioni uuuuh mi spai scii coglioni no fottiti no uuuuuh dritto in faccia lol l'organizzazione guarda che ti prendi sulle braccia lo un colpo morto che novità perchè dsr power su ps3 l'hanno facciato l'organizzazione carlo vuol dire che il lavoro è benedì per la testa di acqua il valore il valore schermo condiviso la prima c'è un po' una filiata del trading veramente ragazze se non avessi cancellato video, farai vedere una ah no, che colpo! no, io stavo sparandola in fondo quindi niente, si spagna a me eri fuori dal reticolo, no vabbè, non facciamo finta di niente cocaé fatto così eeeh ciooooooo adesso ti facciamo cross missed no cross de madre WTF lancia il tono ancora prima di insisti urrrrr... il sanguinario eh perchè il mio finger c'è bambino eh si non che ci voglia tanto, ho ping di 30.000 il mio ping è più basso e per questo che riesco a prendere a vedere bene le sue moglie eh si il tuo ping si chiama che sto guardando nello schermo uguale di guigigli guigli uh il DSR ci sto dichiarando ma cross the no, cross the tail vabbè ma sto sparando al marginino ma che potere la cia che palle che stupida modalità ma no non ha spavato, fa fail glass hang, va è passata attraverso il finestrino ma no ma non posso morire così tanto efficiente infatti sai sai che per... colpo fatale su un dito vabbè e tu forza, mi facci provare stavolta su me a caviglia ancor più fatale no vedi salvata anche dai cofani delle macchine ma non so io sono paura no sei imbecille sei ecco un'altra volta che cazzo fai il cofani oh via veramente ha lanciato il tono però sei così è stato della macchina è best qui il cameo best qui il cameo no best qui scoperei come te ok e' sua bitch anche se non hai altro scusateli non spoiler ecco bravo non a unghetto piccolo ma sei nel mirino sei nel mirino e non ti prendi ma fail tutte le volte che mi trovo sta ricaricando mi metto a correre e smetto di ricaricare vabbè poi il caricatore ti trasporta dentro l'arma ma è uguale una volta che mi serve che ti trasporto nell'arma no per me forno a metà pochino non hai vinto quanti fatti fai per favore aiena adesso no che colpo fa è nello invia scusami ammettibilità adattare che tanto non lo fai e che non si è morto 4 un'epoca in un'epoca di riscaldamento poi te ne faccio da un po' anche devastate cazzo lol tanto perdi e dove c'è te? eh ma dai ma vieni non ti camperai o li dentro non mi campero li dentro se tu wallbang a l'altra parte della mappa cosa? ma no ma questo è è wanted no questo è wanted veramente è wanted eh vabbè amanti no lol basta camperare e camperare dei tech che c'è sempre gli angoli di cui e i tetri c'è sempre gianni 360 ha visto ha visto anche io ma va a cagare non vince la prima dai è la prima tanto ci sarà un epic secondo round perchè devi devastarli ma non ci dà un centimetro ragazzi la canna in faccia mi ha messo epic no qua ecco beh ecco adesso ok voglio ecco me ecco questo secondo round e eh mi mancavano due kill sai com'è stavolta non so se neanche se arrivi a uno cosa? what the fuck? ah e me ne hai lanciato un'altra perchè lui c'ha uomo esercici e lui c'ha mina vagante per trasportare neanche un esplosivo che ho lui usa mina vagante e non usa neanche un esplosivo molto coerente wallbang guardate che wallbang proprio a un millimetro hai passato jump shot drop shot jump shot guardate che ti campi che tanti v2 tanti caracchini ah si? il panetto è il panetto bello una reattività di un cane morto non no no ma perchè? cos'è? cosa mi rappresenta? lo so tu non guarda nello schermo lui lol come guarda nello schermo lui non lo so no tu non mi guarda no hai sparato già bravo 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 best player best player ok dai come si cambia dietro al cotra veramente è il tuo campeonato dietro al cotra dai è giusto è wanted è wanted è wanted no non è wanted niente nooo dobbiamo far vedere cosa è wanted però no 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 invece si lo faccio copia lo farò io scherzo di viso gioco da solo e faccio vedere cosa è wanted ed shot comunque ma mamma mia come spawner random eh veramente sento che sei spawnato spawnato no ti ricarica il balista che cucide di merda farai i piselli negri eh no sparacazzo lol lol ma da no come si fa sono ancora solo a 10 beeeh ma cos'è quatt'aff*** un tomahawk ok ragazzi troffi messo no trocheggiamo un po' come dice johnny hai finito di fare la probabilità occulta e magari ci fa probabilità anche due ah si come no al primo crachino che fa ah lui va a tutti entriamo in me la cosa con un po' di dai colpo fatale a una caviglia sul femore ne ho preso no non ho preso il femore ho appena letto caviglia ricarica fa la finta no tomahawk 3,60 con tutti gli salienti ma che robina no ed market ed market da una convita al 30 per cento e allora ciò che dico che ritrovo tutto con Wumpid 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 la proprio la voce di sperazione non si detesto più di pe te non mi squalerà le mamma mia guarda il mio tomuto che brutto che è il tomuto eh una blossa boom Wumpid 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 il prossimo video quale farà il prossimo video quale farà? ho scelto i blubbi una strada di via sul furied vieni no la macchina vuole farmi esplodere che è il pango via ma no ma sto tagliato le orecchie con il tomo non è possibile fare che se ti avessi detto le orecchie ti avrai inciso perchè è un colpo fatale secondo i colpi però eh si stai scherzando? hai il tagliettino sull'orecchio? non vuoi muro fai? non vuoi muro fai? io ti faccio i trish nei trish ti faccio i trish le best team e dove tu mi fai zoom a mia blu è di sparare in sincronia che mi fa schifo come rumore eh no non è elcio ho tutto il fatto secondo me si mi ha troppo poi ti spari sulle gambe eh eh ebbè è ovvio se quando passano i colpi a random tu chiedi ecco un headshot con una caniglia se a te ti prendo nelle palle ti faccio edge perché c'è una tecnica oh aspetti end di random no scurde no ma dai ma io ti liscio io non lo so e ti passano un metro tu mi lisci le mele sì ancora topo ti dico lol spare guarda hai mai 3,60 mappo ecco cosa hai fatto lo sai io ti ho dovuto muoverti a 3.000 all'ora no no dove è stato il colpo ecco il miseraio appena mi rialza ti ho caricato il colpo e mi spara ecco un'altra volta sei stato salvato da una macchina e siamo a 3 dai stavo ricaricando mi fai sei poi dove ci fai dove è stato il colpo 2 cm dove è stato il colpo dove è stato il colpo 2 cm dove ne so ma no era bello ma no volevo fare volevo fare siete bang siete eh lui ha due tomo lui è pronto ecco no non sei più forte ma tu spara io miro e non mi spara è stato facciato che facciato ho mirato e si è messo a ricaricare il colpo un'altra volta se l'aveva già fatto questo era Edge infatti siamo a casa mia quindi non è Edge loll io cerco di fare wanted hai finito hai finito hai caricato il colpo sei volte ma non lo so io quanti cazzo di proiettivo vi mettere in quella canna lì e almeno non ho fatto Hit Marker ahahahahah ci so tu giochi online fai in una parte all'altra della mappa vieni in testa ehm Hit Marker magari puoi fare 6 man 1 shot on screen Edge non cross the map e fai Hit Marker dopo il secondo ci amassi il primo e il secondo per Hit Marker no non termina partita devo farti una vega kill epic beth no lol beth ha corso le map EU a prima cosa ho usato il balismo il bernico ehm lui viene da dietro il nampone no no non posso morire ancora da dietro a me lo sparano in pace faccio proprio la macchina in pace si ma adesso mi sparo io mi sparo io mi sparo io la macchina e quindi la da la tua kill e faccio i piccoli il cameo con te che ti suicidi e dalla fila a me lol io ho il DSS ehm fai proprio una luttana ti eh a te non ti no basta che ti frolli così no lol ma hai mirato? sto in mezzo allora in teoria non ti dovrebbe dare la force madonna no vado best kill cameo con sambo 2 viti su intida ahahahah no non doveva darci invece si godo come nel male ma cazzo escono i polmi da te? a cazzo escono ah che bella e il giocatore cade è dritto il giocatore è scomparso best kill can EU proprio non c'è niente da fare non c'è niente da fare vabbè ragazzi questo video è finito e ti hanno avuto l'altra partita no no dai 23 minuti basta questo video è finito ci vediamo al prossimo lasciate un like non è vero vi do un'altra partita ragazzi tanto non ci sarà nel video questa partita perchè ti dico che interrompo vero ragazzi e ci vediamo al prossimo video bella